Ciao amici e mei, mi auguro che state tutti bene, vi invito alla nostra riflessione di questa settimana. Durante il viaggio, quando l'Apostolo Paolo era portato prigioniero a Roma, subirono un naufragio vicino all'isola di Malta e tutti i membri dell'equipaggio sono obbligati a lasciare la nave e desci riescono arrivare sano e salve sulla terra ferma. E Luca dite che, siccome era mezzo a piovre e fativa fredo, esse ti iradunarono tutto in torno a un gran foco che aveva atteso, anche Paolo racose un fashio dirame per dietarlo nel foco, ma è quello che una vipera, a causa del calore, saltò fuori e si attaccò alla sua mano. La gente del luogo, come vide la vipera che pendeva dalla mano di Paolo, diceva a frase, certamente questo uomo è un assassino. Infatti, se è salvato dal mare, ma ora la giutizia di Dio non lo lascia più vivere. Ma Paolo, con un colpo, dietò la vipera nel foco e non ne ebbe alcun male. La gente, invece, si aspettava che la mano di Paolo si gonfiasse, oppuro che Paolo cadesse a terra morto sul colpo. Aspetarono un bel po, ma alla fine dovessero constatare che Paolo non aveva alcun male. Allora cambiarono parelli e dicevano, questo uomo è un Dio. È interessante notare come gli abitanti di quale isola cambiano così rapidamente e radicalmente i loro parelli su Paolo. All'inizio lo considerano un assassino perseguitato dalla giutizia divina. Dopotutto era stato atacato da una serpente, dopo essere escapato da una alfraggio. Ma quando hanno visto che non gli stava succedendo nulla di male, cambiano parelli e iniziano a dire che gli erano in verità un Dio. Da assassino a Dio. Guardate che loro esbalano neudicare fretolosamente Paolo come un assassino. e poi esbalano di nuovo neudire che era un Dio. E non sono solo quelli di Malta cometere queste errori, neudicare fretolosamente le persone e cambiare parelli su qualcuno così rapidamente. E anche Paolo non è l'unico che soffre questa cosa. Anche Gesù ha esperimentato qualcosa di simile. Ad esempio, Luca rifrige, nel capítulo 19, di Luca, che Gesù, cavalcando un masino, mentre passava il popolo, e stese le mantere lungo la strada. E quando arriva, quando Gesù arriva, vitina a Jerusaleno, una grande fola di Seguate andava con lui, lodando Dio e dicendo, Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ele è Iure. In Cielo sia la pati gloria nel alto dei Cieli. Luca di Cienove, 38. Però, nel capítulo 23, vediamo Gesù, di nuovo, circundato da Una Fola, che influenciata da Icapire Lidioso, non di Cieva, Pio, Benedetto, Colui, che viene nel nome del Signore. E ele è Iure, ma che gridava, incrute, incrute. Luca, 23, 21, 21. Troviamo Anche, nel Evangelio di Matteo, capítulo 27, e soldati, che dopo insultarlo, e di aver sputato, picchiato e crotifisso Gesù, quando hanno visto il terremoto e tutto quello che è successo dopo la crotifissione e morte di Gesù, hanno molta paura e inizio non a dire questo uomo era davvero figlio di Dio. Matteo 27, 54. E questa cosa non si trova solo nell'istoria della Bibbia. Se prestiamo attenzione a ciò che ci circonda, vedremo che queste cose accadono molto spesso anche ai nostri giorni. E che siamo tutti soggetti a soffrire o a commettere questi errori. Ad esempio, una partita di calcio. Un giocatore può essere considerato o peggiori della partita, ma se nel ultimo instante fa una mostra speciale o seno è il gol della vittoria, cambiano i parelli su di lui e questo diventa l'eròe. E accadono anche il contrario. Un sacerdote, un pastore che è considerato un uomo di Dio, con profunda conoscenza della parola di Dio, un eccellente predicatore, si comete un errore o dichiara qualcosa che è male interpretato o che non piace ai suoi ascoltatori, logo cambiano improvvisamente parelli su di lui e iniziano a dire che in realtà era un eretico. E queste cose possono accadere anche a un commentatore politico o a chiunque altro, comprese me e te che mi ascolti. E il problema è che siamo troppo frettolosi a valutare le persone come assassini o Dei, peccatori o santi, eretiti o ortodossi. E siamo anche molto veloci a cambiare radicalmente i parelli su di loro, specialmente se siamo influenziati dalla foda. E così siamo costantemente in pericolo di soffrire o commettere questi errori e ingiustizie di giudizio. Mi auguro che dopo questa riflessione saremo più maturi e prudenti nei nostri giudizi, che possiamo imparare con l'aiuto di Dio a essere più calati e equilibrati nei nostri giudizi, nel giudicare le persone, e non preoccuparti così tanto con loro giudizi, di ciò che li altri dicono di noi. Infine, vorrei concludere citando la raccomandazione di Paolo in 1 Corintios 4, nel nome di Gesù. Amè.